E' ripartita dopo quattro anni la collaborazione tra il comune di Caltabellotta, guidato dal sindaco Calogero Cattano, la soprintendenza dei beni culturali di Agrigento, diretta da Michele Benfari, e gli archeologi coordinati da Nuccia Gullì, finalizzata alla ripresa dello studio dei materiali rinvenuti durante le ultime campagne di scavo dal 2011 al 2015 in territorio caltabellottese. Queste ultime sono state condotte da Rosalba Panvini, docente di metodologia della ricerca archeologica dell'Università di Catania, intervenuta grazie ad una convenzione. Quest'anno è stato predisposto un laboratorio di studio finalizzato ad analizzare e catalogare tutti i reperti ritrovati nelle missioni precedenti, al fine di poter riprendere successivamente gli scavi nell'area di San Benedetto. Partecipano alle attuali operazioni gli archeologi Antonino Barbera, Martina Toscano, Giussi Florio, Francesca Florio, Aleandro Vaccaro, Anna Maria De Lucia, Giuseppe Mannino e Barbara Cavallaro. Si tratta di studi molto importanti per verificare le origini del sito e dell'intera area occidentale della provincia. Da decenni la zona è interessata da missioni rese possibili solo grazie all'impegno e agli sforzi economici di docenti e studenti accademici, ma ancora resta tanto da fare per riportare alla luce il villaggio indigeno ellenizzato, di cui già parecchie tracce sono state individuate. Dopo l'ultima missione, risalente al 2015, ecco che attraverso una fattiva collaborazione tra l'amministrazione comunale, la soprintendenza ed egrigento e l'università di Catania, si ritorna a Caltabellotta per intraprendere quella campagna di studi più volte interrotta, volta a scoprire la verità ancora nascosta nel sottosuolo. L'obiettivo è quello di trasformare queste missioni da sporadiche a sistematiche, mettendo a disposizione degli studiosi tutto ciò che può aiutarli e agevolarli nello studio, analisi e catalogazione dei reperti. Caltabellotta è uno dei siti quasi del tutto inesplorati tra i più importanti per ricostruire la storia della Sicilia, che va dalla preistoria al periodo ellenistico, quindi al periodo romano fino al Medioevo. La sua collocazione in un luogo strategico, inespugnabile, sulla sommità di un a mille metri di altezza, ricco di acqua, lo ha reso il sito ideale per fondare una città, una città ancora tutta da scoprire. È auspicabile che, quanto prima, venga sottoscritta una nuova convenzione tra l'Ateneo Catanese, il Parco archeologico della Valle dei Templi, nella cui competenza rientra il sito archeologico di Caltabellotta-San Benedetto-Giubbo, e la soprintendenza ed egrigento, cui si attesta la tutela del patrimonio culturale ed emaniale. In questo modo potrà riprendere una ricerca scientifica mai interrotta del tutto.